Grazie a tutti. A che ora parti? Mentre stavo pensando se dire sì o no aveva preso il biglietto e quindi era molto prima dell'alba, comunque era molto buio e quindi questa è la prima cosa che ho imparato con Mario che non bisogna, è successo lo stesso prima del family day quando sono stata coinvolta in questa bella avventura. Però ecco appunto ho detto un sì in cauto e poi mi sono trovata in questa cosa molto più grande di me. Sono contenta per aver partecipato e ho cercato di capire come mai mi sono trovata in questa cosa, anche rileggendo il libro di Mario che ha elencato le grandi bugie sul gender. Io in realtà avevo scritto dei libri in cui descrivevo la fatica di funzionare insieme maschi e femmine e mi sembrava in realtà un fatto scontato il fatto che siamo diversi. Per esempio pensavo le differenze sono talmente tante che non riesco neanche a elencarle. Poco fa stavo dicendo a Mario le sfumature del verde, ho visto il panico nei suoi occhi perché per l'uomo esiste, perché il verde è verde. Questo è verde erba, poi c'è verde menta, verde salvia, verde petrolio, pisello, turchese, cioè mi guardavo come se stessi parlando di fisica quantistica. Ecco cioè non lo so ci sono talmente tante differenze tra maschi e femmine che io sperimento come credo tutti noi, tutti i giorni pensavo. Quanti padri ci sono nei gruppi Whatsapp per il regalo alle maestre, credo cioè, mentre le madri sono capaci di discutere tipo per quattro mesi sulla borsa, se va bene, se va male. Io non sono su Whatsapp proprio per autodifesa perché so che sarei coinvoltissima. Le differenze appunto tra maschio e femmina sono talmente tante che è chiarissimo che c'è dietro un intento culturale di raccontare una realtà diversa dell'uomo e della donna. Il fatto che appunto maschio e femmina sono uguali, che il sesso biologico è modificabile, adesso l'ultima sentenza a Caltanissetta, addirittura un uomo si è dichiarato donna perché si percepisce donna senza neanche fare l'operazione. Quindi ormai c'è il sesso percepito e anche la legge ormai credo condizionata da tante pressioni culturali lo riconosce. Cioè il fatto che la famiglia naturale sia uno stereotipo, che la genitorialità deve essere legata al sesso e quindi il fenomeno anche di riflesso dell'utero in affitto. E soprattutto la cosa che a me personalmente interessa di più è il fatto che tutte queste bugie sulla sessualità vengano proposte a scuola perché in realtà le mie idee sono talmente chiare ed evidenti che non ho paura neanche della propaganda, semplicemente cambio canale, non compro quel giornale, però invece credo che sui ragazzi questa propaganda abbia un potere. E anche sulle donne, proprio ieri sera ero a Desenzano con soprattutto le madri di una scuola, anche qualche padre, soprattutto le madri. E alla fine è stata come spesso succede tra amiche, una seduta di gruppo, di autocoscienza e alla fine insomma ci siamo messi a confrontarci sul nostro modo sempre per ognuna personalissimo di tenere insieme tutti i fili che compongono la vita di una donna, no? Cioè l'essere moglie, madre, lavoratrice, ognuna di noi ha trovato a fatica con tanti tentativi e anche a volte tanti errori il proprio equilibrio. E alla fine tante donne hanno detto dobbiamo fare di più perché dobbiamo smettere di berci le bugie che ci hanno raccontato sulla donna, sul lavoro. Ci hanno convinte che fosse una fortuna incredibile poter essere liberi dai figli, lasciarli, anzi far procrastinarne la nascita il più possibile. Sapete che tante aziende americane a partire da Facebook, Google, Yahoo, danno come bonus all'assunzione delle donne il congelamento degli ovuli in modo che possano fare figli tranquillamente dopo i 40, no? E quindi il messaggio che passa continuamente è anche l'altro giorno c'era la giornata delle giovani leader del futuro su Facebook e c'era l'immagine, a parte vorrei conoscere i grafici di Facebook perché c'erano questa platea enorme di pubblico e fanno dei disegni terribili. Comunque erano queste donne stilizzate, raffigurate, erano tutte donne lavoratrici con le braccia così a damigiana, le gambe larghe, la tuta da lavoro, i caschi in testa. Cioè l'immagine che viene proposta alle nostre figlie e anche che noi piano piano assorbiamo comunque è quella che la realizzazione della donna passa prima di tutto attraverso il lavoro e che deve liberarsi dalla schiavitù della famiglia, della generazione dei figli e quindi tante di noi sono rimaste fregate, tante di noi dicono io mi sono decisa, anche quelle di ieri sera ma migliaia ormai in tutta Italia con cui mi sono confrontata, io mi sono decisa a chiedere il part time quando i miei figli ormai erano grandi mi sono persa un sacco di cose della loro infanzia e ho messo tra parentesi la cosa più preziosa della mia vita l'ho messa da parte, l'ho messa per ultima e ecco credo che tutta questa propaganda che viene fatta contro la donna perché alla fine spacciata come emancipazione, come difesa della donna in realtà è contro la sua vera realizzazione e la sua vera felicità ha un potere molto sottile anche perché appunto è fatta in modo non esplicito in modo appunto sottile anche ieri vedevamo sempre con le amiche di Senzano abbiamo bevuto una birra in realtà io no però dopo l'incontro e c'era Sex and the City senza volume però ormai lo sappiamo tutti a memoria e c'erano perché da ragazze l'abbiamo visto e c'è veramente questa raffigurazione evidentissima della donna emancipata e felice è quella che ha una vita sessuale liberissima senza legami, senza conseguenze, senza nessun tipo di impegno e quelle che vengono invece raffigurate come c'era vicino a loro in una scena una suora con una faccia da bacchettona tremenda, antipaticissima, tristissima e quello è un messaggio potente che passa più di mille catechesi che ne possiamo fare magari in chiesa o nei parrocchi secondo me è importante non mollare in questo lavoro veramente capillare fatto porta a porta di contatti, di relazioni, anche di incontri come questo perché è importante dire alle donne abbiate il coraggio di ascoltare quello che veramente provate, cioè di non negare questa parte di voi che questo non vuol dire che ovviamente che tutte le donne debbano stare in cucina a caricare la lavastoviglia anche perché mio marito la carica sicuramente meglio di me, c'è una lunga diattriba da anni come se mettono le padelle insomma vabbè, però non è questo certo il punto che ci definisce sicuramente non è chi pulisce o chi fa cosa in casa ma avere l'orgoglio di dire quello che è veramente importante per noi senza farci condizionare, il mondo del lavoro ci dice che è importante essere sempre più libere avere gli asili nido aziendali per esempio, ogni volta che si parla di lavoro in televisione si parla di quote rosa che credo riguardino 0,1% delle lavoratrici e di asili nido aziendali cioè di come lasciare più presto possibile le bambini minuscoli per andare magari a soddisfare le richieste di un capo perché dipendere da un marito è la cosa più brutta del mondo invece dipendere da un capo ce la spacciano come fortuna e quindi secondo me è importante questo libro che insomma ragiona riflette anche su questi temi, sulle bugie che ci dicono e che le danno per scontate e per acquisite ma noi credo che con l'esperienza di questi incontri sul gender nelle parrocchie che poi due femmini dei abbiamo provato a essere il sassolino che inceppa questa macchina da guerra della propaganda la propaganda però funziona perché come ricorda Mario la denatalità è sempre più incalzante quasi tutti i leader europei sono senza figli compresi i nostri italiani e questo sicuramente non è un caso il fatto che la famiglia non sia una priorità è evidentissimo, lo sappiamo tutti che ci sono famiglie che si separano perché conviene fiscalmente, conviene da tutti i punti di vista e la famiglia non è aiutata ma anzi è vessata sempre più poi un altro tema non trascurabile è quello dell'aporto che è veramente, non so, ci sarebbe da parlare per ore però una cosa che non sapevo nel libro di Mario c'è un dato che mi ha sconvolto cioè che è vero che gli aborti sono leggermente calati, siamo intorno ai 100.000 ma comunque perché è anche diminuita la popolazione femminile in età fertile ma ogni anno si vendono 600.000 scatole di pillole di emergenza cioè del giorno dopo, dei 5 giorni dopo e che è un numero sconvolgente e è stato tolto l'obbligo di ricetta per cui è diventato un farmaco da banco per cui si può andare tranquillamente in una farmacia senza neanche l'imbarazzo di dover chiedere una ricetta di dover, hanno proprio tolto tutti gli ostacoli anzi viene favorita e incoraggiata questa cosa poi tra l'altro c'è un ultimo forse rispetto al fatto che si uccide un bambino non è niente ma comunque per una donna è una bomba di veleno incredibile una pillola abortiva e un altro tema allucinante è quello dell'esterminio dei Dau e in Italia forse ancora, non so, rispetto a questa felice gradatoria siamo leggermente sotto anche se comunque anche a noi io quando avevo 27 anni aspettavo il primo figlio mi hanno dato per scontato che avrei fatto la mia centesi come cioè viene consigliata normalmente come prassi ormai proprio cioè al 100% ti dicono allora quando vuole fare la mia centesi anche qua nell'età, nelle fasce anche più giovani della mia o anche a 27 anni appunto quando il rischio che il bambino abbia malformazioni genetiche è inferiore a quello che muoia durante l'esame perché l'esame è comunque invasivo e pericoloso però si preferisce rischiare che il bambino muoia piuttosto che far nascere un bambino malato e sapete che in Francia è stata addirittura proibita la diffusione di quel video di Young Future Mom che faceva vedere dei bambini down che dicevano mamma guarda anche se sono down io posso essere felice e questo video è stato proibito perché è ritenuto offensivo della sensibilità delle madri che avevano abortito quindi cioè si può abortire ma non si può ricordare alle madri di averlo fatto e magari di aver ucciso un bambino vero che poteva essere felice e infine la grande bugia dell'utero in affitto che diciamo ci onoriamo di avere grazie a Mario fermato almeno al momento in Italia che però poi è rientrata come con la legge 40 abbiamo vinto il referendum ma poi il fatto che la renda opposto alla nostra resistenza all'utero in affitto l'argomento emotivo no? cioè noi siamo quelli cattivi che vogliamo separare i bambini da questi compratori io non lo so penso che la soluzione come dissi alla 7 quando intervistarono che è l'episodio che anche Mario ricorda di rendere obbligatoria la frequenza cioè il legame con queste madri non può essere completamente cancellato e quindi io dissi ma lei che cosa propone? perché è facile far vedere le foto dei bambini felici che saltellano sul divano e tu sei quella cattiva che non vuoi che questi bambini siano felici saltellano sul divano la cattolicona fascista eccetera e per cui io dissi fate almeno tentare cioè avere una relazione con la madre perché è necessario e quindi la persona intervistata mi rispose che la madre non esiste la madre è un concetto antropologico che ormai questa nostra è diventato un topos letterario cioè i miei figli ormai mi chiamano concetto antropologico è pronto oppure anche a volte tipo ti sei lavato i denti ma no i denti sono un concetto antropologico cioè è talmente assurda come risposta che non lo so cioè eppure negare la realtà se lo si continua a fare con insistenza su tutti i mezzi di comunicazione con tutta la grande potenza della macchina da guerra della comunicazione alla fine ci si anestetizza perché alla fine a forza di sentire le cose il rischio è quello di abbassare la guardia quindi credo che noi siamo qui oggi per continuare a tenere alta l'attenzione per continuare ad affermare che queste cose non sono vere sono bugie sono false come ha detto anche il Papa recentemente l'utopia del neutro anche se forse utopia che ha un po' una connotazione positiva non era la parola comunque ha detto chiaramente che questa idea che ci possa essere un neutro è veramente una follia che però si sta espandendo in modo molto prepotente ecco noi siamo qui per ricordare che queste sono bugie che la felicità dell'uomo e della donna è della famiglia perché la famiglia è il progetto dell'uomo è il progetto per l'uomo perché l'uomo viva perché porti frutto perché sia felice perché una famiglia che funziona è veramente un'arma di costruzione di massa grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti